Noi vorremmo ripartire con il nostro lavoro perché ci manca innanzitutto il nostro lavoro, ci manca lavorare, ci manca tutto. Noi abbiamo bisogno di lavorare come penso tutte le grandi aziende, ma io vedo che le aziende stanno incominciando a ripartire e noi purtroppo siamo ancora qui fermi, noi abbiamo bisogno di lavorare. Chiedono risposte gli artisti del circo Madagascar, fermo dal 3 marzo ad Ancona dove avrebbe dovuto ottenere spettacoli dal 6 al 15 marzo. La cittadorica faceva parte di una torneia lunga tutta la costa adriatica cancellata dall'esplodere dell'emergenza coronavirus. Il circo conta 50 dipendenti e al suo seguito circa 80 animali, una vera e propria azienda itinerante che seppur ferma richiede spese e cure continue. Chi più grandi, chi più piccoli, ma tutti hanno un costo a stare fermi perché purtroppo abbiamo dipendenti, animali, manutenzione da fare, perché anche se sei fermo la manutenzione al materiale lo devi fare per ripartire, lo devi tenere in ordine, devi costruire gli animali, quindi abbiamo costi anche a stare fermi. Noi siamo qui in attesa di queste case integrazioni che ancora non ci sono arrivate, siamo ancora sulle nostre spalle su questa cosa. Il circo Madagascar è una delle 60 realtà circensi presenti in Italia, un settore che dà lavoro a 20.000 persone. Il comune d'Orico e la protezione civile regionale si sono attivati da subito per sostenere i circensi nella loro permanenza forzata nel territorio d'Orico. Ma all'appello del circo hanno risposto anche i produttori col diretti delle province di Ascoli, Piceno e Fermo, insieme a due aziende della provincia di Ancona che hanno donato carne e foraggio per gli animali. In un periodo come questo di emergenza bisogna dare una mano a chi ha più bisogno. La federazione interprovinciale di col diretti Ascoli, Piceno e Fermo ha voluto donare al circo 250 quintali di fieno provenienti dalle aziende del nostro territorio. Ci rendiamo conto che chi vive con il pubblico e il pubblico in questo periodo ancora non può muoversi, sta vivendo una situazione drammatica. Abbiamo della carne che abbiamo portato soprattutto per questi grandi felini che penso, vedendo già prima quando gli è stata appena data, hanno molto apprezzato. Noi siamo stati molto aiutati qui ad Ancona, una gente così difficile di trovare. Ancona ci rimarrà nel cuore perché dalla protezione civile, la carita, tutti quanti qui a Ancona ci hanno aiutato, non ci fanno mancare niente né per noi né per i nostri animali. Ancona ci rimarrà nel cuore per i nostri animali.